Prego la regia di mandare in onda le immagini. Viola in avanti e Nerazzurri in vantaggio con questo calcio di punizione dell'olandese Ben. È il settimo del primo tempo, un gol da manuale, la Fiorentina cerca il pareggio, ci prova di testa Pellegrini, Ben e Nista. Viola ancora al pressing, Dandunga a Mattei, Cucchi davanti a Nista, Piovanelli salva sulla linea. Alla mezz'ora il raddoppio sulla destra, cross di Severins, Piovanelli di testa a mette alle spalle di Landucci, è il 2-0. Al trentaseiesimo il terzo gol su calcio d'angolo, gran botta del belga Severins e palla in rete. Nella ripresa, come si è detto non abbiamo le immagini, ci sarà uno spettacolare gol di Baggio che dopo aver superato in slalom cinque avversari metteva segno. Poi l'espulsione di Lucarelli e Mattei, il quarto gol del Pisa ancora con Severins il belga e a un minuto dalla fine la rete dell'orgoglio di Dunga. È finita così, 4-2, linea a Mattei.